Ciao riders e bentornati sul canale di Bikes4Eddy, io sono Eddie e oggi vi voglio parlare di questa verdona che c'è alle mie spalle. Infatti negli scorsi giorni ho avuto l'opportunità di farla provare a diversi amici e ho pensato di provare a strutturare un nuovo servizio, tutto dedicato a voi, ma prima di andare al servizio che vi racconterò alla fine del video voglio parlarvi delle 5 cose che assolutamente dovete sapere sulla Kawasaki ZX 10R Ninja del 2015 prima magari di comprarne una o anche di noleggiarla. Come sempre partiamo dal punto numero 1, ovvero il motore. Il motore è un 4 cilindri in linea in configurazione screamer con la bellezza di 998 cm3 che eroga 200 cavalli a 13.000 giri e 11 kg di coppia a 11.500 giri. Il motore è davvero fenomenale, io ho avuto la fortuna di provarlo, ho preso questa moto in uno dei tanti scambi che ho fatto durante l'inverno pensando di utilizzarla come moto da allenamento, prendendola un pochettino sotto gamba, beh, devo dire che mi ha davvero stupito. La potenza del motore è davvero tanta e l'erogazione è lineare per quanto sia una di quelle moto che vuole essere guidata piuttosto con decisione, con forza, un po' come se fosse un 600. Voglio raccontarvi una cosa particolare rispetto a questo motore, cioè normalmente siamo abituati ad avere dei 1000 che hanno delle misure caratteristiche di alesaggio e di corsa di circa 78 x 50 o 51 mm, 78-79 di alesaggio e 50,9-51 mm di corsa, il che le definisce come motori prettamente superquadri, cioè con un alesaggio decisamente superiore rispetto a quello della corsa. Bene, Kawasaki per dare un pochettino più di tiro, cosa peraltro fatta anche da Aprilia con l'ultimo motore 1100 adeguato alle normative Euro 5, ha deciso invece di fare un motore meno superquadro con una corsa leggermente più lunga in proporzione all'alesaggio in maniera tale da avere un po' più di coppia e un po' più di tiro ai medi e ai bassi regimi. E la cosa si sente, per fortuna, perché comunque trattandosi di un motore screamer altrimenti saremmo davvero obbligati a guidarlo tutto in alto, sempre sopra, ai 10.000 giri. Il motore ovviamente ha quattro valvole per cilindro che sono comandate da una distribuzione bi-albero, comandate da una catena con appunto due alberi, uno per le valvole di aspirazione e l'altro per le valvole di scarico. Il cambio è a sei rapporti e c'è la frizione antisaltellamento. Per quanto riguarda la mia Kawasaki ZX10R Ninja, devo dirvi anche che c'è uno scarico completo in titanio, un filtro di aspirazione modificato e la centralina è stata mappata con il kit KRT per cercare di arrotondare il tutto. Inoltre un paio di anni fa, esattamente un anno e mezzo fa, a circa 7.000 km il motore della moto è stato aperto e revisionato e durante la fase di revisione il preparatore che ha fatto questa operazione ha anche fatto la parte di flussaggio delle teste. Il flussaggio delle teste è una lavorazione particolare che viene fatta ai condotti di aspirazione e a quelli di scarico in maniera tale da eliminare tutte le perfezioni e permettere di avere dei flussi di aria in entrata e in uscita dal motore più lineari per permettere più velocemente il gas di scarico di uscire dalla camera di combustione e ai gas freschi di entrarci. Il che non necessariamente determina un aumento della potenza massima, ma sicuramente tende a determinare un aumento della fluidità di erogazione e la velocità con cui il motore prende i giri. Seconda cosa che dovete sapere sul Kawasaki ZX 10R Ninja del 2015 prima di correre a comprarlo ovviamente riguarda la piattaforma su cui è costruita. Abbiamo un bel telaio in alluminio a doppio trave discendente o a diamante come preferite sostanzialmente chiamarlo. Il motore è infulcrato all'interno del telaio, è una funzione portante per dare più rigidità a tutta la struttura. Il forcellone ovviamente è monobraccio. La moto come vi raccontavo prima nella parte dedicata al motore chiede di essere guidata piuttosto come un 600 cercando di portare una elevata velocità di ingresso in curva e ovviamente il telaio e la ciclistica cercano di fare del loro meglio affinché il pilota possa fare questo e devo dirvi che ci riescono davvero. Raramente ho avuto la sensazione di entrare al curvone di Misano o al curvone di Vallelunga con delle moto più stabili. Il telaio fa davvero il suo e soprattutto la parte di avantreno nella frenata e nell'inserimento di curva sono davvero granitiche. Sempre per quanto riguarda l'esemplare che vedete alle mie spalle, il precedente proprietario l'ha allestita davvero con del materiale di tutto punto. Infatti troviamo delle cartucce aperte in X30 Hollins all'anteriore e un mono posteriore TTX36GP al posteriore. C'è poi anche un ammortizzatore di sterzo, anche questo Hollins per chiudere il cerchio e avere un allestimento idraulico full Hollins. Per quanto riguarda i freni l'impianto è stato modificato, è stato escluso l'ABS con un esclusore, vi sono delle tubazioni dirette e la pompa è una 19x18 radiale, in maniera tale da andare ad effettizzare quello che è uno dei punti forti di questa moto, quello che vi dicevo prima, e cioè l'inserimento di curva e la frenata. Davvero la sensazione quando si preme sulla leva del freno è quella di avere grandissima stabilità e di buttarsi in curva come se fosse su un binario. Bisogna però avere il coraggio, cosa che peraltro io raramente ho, di non fermare troppo la moto e buttarsi in curva a 10-15 km all'ora in più di quello che ci si sente, perché la ciclistica assolutamente ve lo consente e la moto è stata studiata e pensata proprio per questo tipo di conduzione. Diversa ad esempio da quello che succede con l'R1, che ha secondo me un telaio più morbido, vuole essere fermata di più, fatta girare con uno spigolo e poi essere pronta a ripartire. Questo è un motore che è meglio non far scendere troppo di giri, portarsi a elevata velocità all'interno della curva e sfruttare le doti di ciclistica, di telaio, di ammortizzatori e di freni per cercare di avere la massima velocità di ingresso in curva, farla correre e poter uscire dalle curve, soprattutto dai tornanti a 180 gradi, come ad esempio quelli che si trovano nelle piste di Cremono al tramonto di Misano, già con il motore quasi sopra i 10.000 giri, regime nel quale ovviamente il motore per come è configurato dà il meglio di sé. Inoltre ancora per quanto riguarda la piattaforma, il precedente proprietario si era curato di far raffreddare al meglio questo motore installando un radiatore supplementare dell'olio e quindi abbiamo un radiatore maggiorato e poi ovviamente abbiamo le immancabili pedane e i semimanubri regolabili che possono essere cambiati molto velocemente in caso di caduta e soprattutto ci permettono di trovare immediatamente quella che è la posizione più agevole in sella. Lo sapete, io batto sempre su questo punto perché l'ho capito a mie spese dopo anni in cui ho cercato di guidare adattandomi alla moto che mi veniva data prima di capire che è la moto che deve essere adattata alle nostre misure fisiologiche. Io sono alto 1,86 m, sono molto grossi quindi devo cercare di adattare la moto alle mie caratteristiche fisiche e al mio stile di guida piuttosto che non cercare di adattarmi io a quelle che sono le costrizioni della moto. Ecco che allora avere dei semimanubri regolabili, delle pedane regolabili e poter variare l'altezza del piano della sella con delle selle di altezza variabile viene in nostro aiuto. Terza cosa che dovete sapere su Kawasaki ZX 10R Ninja prima di correre a comprarla riguardo ovviamente la tecnologia che c'è a bordo. Bene, stiamo parlando di una moto del 2015 che quindi non è recentissima, al momento ha circa 8 anni ma la dotazione di serie di cui è dotata devo dire che tutto sommato è più che sufficiente infatti abbiamo tre riding mode diverse con tre mappature motore diverse abbiamo il traction control, abbiamo l'ABS che ovviamente è stato eliminato e abbiamo già un cambio elettronico purtroppo solo in salita. Se devo pensare ad una miglioria forse penserei all'introduzione, all'inserimento di un Blipper che ci possa aiutare anche nella fase di scalata. C'è una frizione anti saltellamento che aiuta molto in questa fase però devo dire che un Blipper secondo me potrebbe in qualche modo pensare di fare la differenza. Per quanto riguarda il resto non abbiamo particolarità strane sulla moto perché appunto si tratta di una moto che è quasi al 100% analogica, ha degli aiuti alla guida ma non sono così evoluti come quelli delle moto moderne e devo dirvi che secondo me questo è anche un vantaggio perché da un certo punto di vista permette al pilota di avere la testa più accesa e quindi dosare meglio l'apertura del gas e per come è pensata la moto quindi con questo motore con la corsa un po' più lunga delle attuali supersportivi, il telaio e i freni io non ho sentito particolari bisogno di avere aiuti elettronici supplementari alla guida. Come vi ho detto per me è una moto da divertimento e da allenamento e per quanto lo usate, in realtà non tantissimo perché ci ho fatto 3 o 4 track days e basta devo dire che l'obiettivo è perfettamente centrato. Quarta cosa che voglio raccontarvi sul Kawasaki ZX-10R Ninja del 2015 prima che corriate a comprarla e magari cerchiate un buon usato riguarda il design. A prima vista è una moto che non mi ha mai comunicato niente però devo dire che avendola in garage un giorno dopo l'altro devo dire che la trovo veramente affascinante la trovo affascinante, un po' sgraziata, un po' un brutto anatroccolo rispetto alle concorrenti però ha quel che di particolare che la rende davvero unica non mi convince al 100% il codone che è un po' squadrato e non mi piace il modo in cui ha posizionato il plexiglass sul cupolino avvitato in maniera così un po' posticcia devo dire che il cupolino è anche un po' basso e fornisce un riparo aerodinamico che per chi è di elevata statura come me forse non è sufficiente però una delle modifiche che farò sarà sicuramente quella di mettere un plexiglass a doppia bombatura per quanto riguarda il design il resto invece la moto mi convince appieno una moto molto personale, immediatamente riconoscibile che a prima vista sembra piuttosto grossa ma quando si è vicini si rende conto che è una moto molto compatta io ce l'ho parcheggiata accanto all'R1 devo dirvi che è davvero molto più piccola dell'R1 mi piacciono moltissimo le fiancate con uno sviluppo verticale importante i grandi sfoghi dell'aria, mi piace il cupolino proteso in avanti con questa bella bocca centrale che raccoglie tutta l'aria disponibile e la porta direttamente all'interno dell'airbox che così può andare in pressione e aumentare le prestazioni del motore come ho detto non mi piace tantissimo la parte posteriore non mi piace il codone però anche questa potrebbe essere una modifica con l'installazione di un codone 2016 infatti mi sono già informato dai miei amici di Studio Fibre una delle potenziali modifiche che ho intenzione di fare sarebbe quella di provare a montare il kit di carene della versione 2022 proprio su questo modello perché di fatto il telaio, il forcellone, il motore non hanno mai subito negli anni grandissime variazioni le variazioni sono prevalentemente di natura estetica e di condotti e di telaietti quindi questo potrebbe essere un bel esperimento da fare insieme e da portare sul canale nei prossimi mesi Quinta cosa che voglio raccontarvi sulla Kawasaki ZX-10R Ninja del 2015 prima che corriete a comprarla riguarda quello che mi piace davvero e quello che invece mi convince poco che cosa mi piace davvero? L'affidabilità e la robustezza se mi seguite su Instagram e seguite un po' le traversie delle mie ultime stagioni sapete che le rotture di motore sono davvero all'ordine del giorno con le supersportive moderne ormai R1, Aprilia, in realtà anche BMW non fanno più di 5 o 6.000 km di pista dopodiché è necessario provvedere ad una revisione del motore bene, questa moto qua è stata aperta circa un anno e mezzo fa adesso a 1.650 km della revisione è stata aperta più per scrupolo e al proprio interno i pezzi erano assolutamente perfetti infatti una delle caratteristiche fondanti di Kawasaki è quella di avere degli acciai di primissimo livello e tendenzialmente il motore Kawasaki è un motore molto robusto qui l'unica nota a cui stare un po' attenti ovviamente è il cambio che andrebbe ispezionato almeno una volta all'anno per verificare che le forchette siano dritte e non abbiano nessun tipo di difetto cosa peraltro abbastanza facile perché Kawasaki conoscendo un po' questa debolezza strutturale del proprio cambio ha ovviato diciamo mettendo un cambio estraibile quindi anche l'ispezione del cambio è un'operazione veloce, semplice e che può essere fatta tutto sommato tutte le stagioni senza necessariamente dover tirare giù tutto il motore poi mi piace il design proprio perché è sgraziato un po' diverso da quello di tutte le altre moto a cui siamo abituati immediatamente riconoscibile ma io lo trovo incredibilmente personale poi questa è stata una moto molto titolata e che siamo abituati a vedere nel campionato mondiale superbike che ha accompagnato Johnny Ria in tantissime vittorie e in sei campionati del mondo vindi quindi sicuramente la sua linea a me personalmente trasmette qualcosa che cosa non mi piace? in realtà ve l'ho già detto non mi fa impazzire il tipo di guida che è necessario impostare su questa moto perché io tendo ad essere molto conservativo e quindi trovo molta fatica a entrare così forte con così tanti giri in curva mi piace la sensazione di robustezza del telaio mi piace il fatto che il pilota abbia la sensazione di guidare su un binario mentre si sta buttando all'interno del curvone di Misano mi piace moltissimo la frenata mi piace l'uscita di curva e mi piace il fatto che questa moto impenna tantissimo impenna tanto quanto l'R1 perché una volta che entra in coppia davvero è devastante come vi anticipavo prima non mi ha 100% convinto l'erogazione del motore perché sotto gli 8000 giri proprio perché il motore è un 1000 in configurazione Screamer tutto sommato è un po' vuoto e richiede di usare molto il cambio altra nota particolare è la spazzatura del cambio bisogna provare il cambio Kawasaki per capire che cosa vuol dire avere la prima lunga le prime tre marce sono davvero molto lunghe e ravvicinate tra di loro mentre la quarta, la quinta e la sesta tutto sommato sono un po' più spaziate ma forse un pelino corto il che costringe il pilota ad adattare la rapportatura finale ai diversi circuiti in maniera diversa rispetto a quello che si fa magari appunto con l'R1 o con l'Apriglia che tutto sommato non hanno delle rapportature finali molto diverse sui vari circuiti e ecco ultima cosa bonus tip che volevo lasciarvi ho da poco lanciato un nuovo servizio siccome molto spesso mi dite che ho delle moto molto belle ho pensato che sarebbe opportuno dare la possibilità a tutti di provare le moto su cui io affronto i track days o addirittura le gare quindi inizierò dal Kawasaki aprendo un servizio di noleggio pronto pista e pronto gara in cui sostanzialmente vi porto la moto in pista vi seguo per tutta la giornata vi faccio provare la mia moto la potete noleggiare all'interno di un track day che decidiamo insieme e poi basta mi direte che cosa ne pensate fatemi sapere se questo servizio vi piace vi interessa può essere una cosa utile oppure se lo trovate già da altre parti per il video di oggi è tutto io ho voluto raccontarvi qualcosa in più sulla mia Kawasaki ZX-10 R Ninja del 2015 e ci vediamo la settimana prossima con due nuovi video dedicate ad altre moto da pista per il video di oggi è tutto io vi saluto ciao riders ciao